Ti presento gli sfidanti di questa sera iniziando da questo giovane Paolo Erario Erario, che il cognome è una vita Ormai ci ho fatto l'abitudine Ci terrei a sottolineare che non sono schierato, io ho portato la mia bandiera Qualche sarebbe? Fai vedere? Forza Taranto Ah il Taranto, il Taranto Forza Taranto, infatti Paolo ha 22 anni, viene da Taranto Gestisce gli investimenti finanziari per la clientela di una banca Quindi sei già introdotto nel... Anzi colgo l'occasione per salutare il mio direttore, il direttore Nicola Certo, il direttore, oh il direttore Sì, no no, mi ha dato questa concessione